Parlavamo prima di danza, questo è proprio un pezzo che è proprio studiato per la danza Vediamo sul palco solo percussioni e batteria, c'è anche l'insegnante Roberto Forlini che suonerà Puro ritmo e pura danza Puro ritmo e pura danza, il pezzo si chiama Afro Grazie a tutti 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 Grazie a tutti